In questa puntata di Unicam News la professoressa Capua virtualmente in Unicam per un seminario per gli studenti. Lavoro di ricerca Unicam sull'analisi dei dati del coronavirus grazie all'intelligenza artificiale. Il seminario di Unicam per la giornata della terra. Infine al V.A. Master Unicam in materiali innovativi per un'economia sostenibile. Ben ritrovati dalla redazione di Unicam News. Abbiamo sentito gli argomenti che affronteremo nel corso di questa puntata e allora possiamo iniziare subito con il primo servizio. L'Università di Camerino ha ospitato virtualmente nei giorni scorsi la scienziata di fama in internazionale Ilaria Capua, virologa italiana, oggi direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, che ha fatto il punto sullo stato dell'arte e su cosa ci si aspetta a partire dalla cosiddetta fase 2 per fronteggiare l'emergenza coronavirus. A dialogare con la professoressa Capua è stato il professor Guido Favia, direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Unicam. Ad introdurre l'incontro il saluto del rettore Claudio Pettinari. Ascoltiamolo. L'avremmo voluta ospite, non esclusivamente per questa purtroppo drammatica situazione che stiamo vivendo, ma proprio perché abbiamo sempre seguito con attenzione il suo lavoro. Io ricordo il fatto che il testo, i virus non aspettano e purtroppo i virus non hanno atteso effettivamente come lei già anticipato. Professoressa, la ringrazio anche per il suo ultimo volume, quello sulla salute circolare, dove ha toccato un altro tema molto caro al nostro Ateneo, che è quello della interdisciplinarità e della multidisciplinarità sul quale noi insistiamo spesso anche con i nostri ragazzi, perché siamo convinti che il tema della salute sia proprio, pensando alla circolarità, un tema da trattare a tutto tondo. Una One Health come lei ci ha insegnato, e la ringraziamo per questo. Che sappia che unicamente sarà la sua casa tutte le volte che vorrà essere con noi. E dopo aver fatto un excursus su quanto successe e su come il virus abbia iniziato a diffondersi rapidamente in tutto il mondo, scatenando la pandemia, la professoressa Capua si è anche soffermata sulle opportunità che potrebbero venire fuori da tutto questo. Il Covid-19, ha sottolineato la professoressa Capua, ha portato molti segnali sulla sostenibilità del mantenimento di un sistema globalizzato all'attuale livello di interconnessione, che poi però non è in grado di rispondere ad una grande minaccia. Sta inoltre fungendo da acceleratore di interdisciplinarietà, dal momento che ora tutti i ricercatori vogliono portare il loro contributo, non solo quelli che operano nell'area biomedica. Un'altra opportunità che ci sta offrendo la pandemia ha proseguito, è che le persone si stanno avvicinando alla scienza. Dopo aver sofferto di attacchi, di perdita di rispetto e di credibilità, ora tutti vogliono sapere di scienza. E si tratta di una occasione che soprattutto le università non devono lasciarsi fuggire. Utilizzando un sistema di machine learning e intelligenza artificiale, ovvero processando informazioni di grande ampiezza in tempi abbastanza veloci, il gruppo di ricerca del centro di telemedicina Unicam, coordinato dal professor Francesco Amenta, ha voluto analizzare i dati provenienti dal Ministero della Salute per verificare l'andamento dell'epidemia da coronavirus nelle quattro settimane di lockdown di marzo. Vista la grande rilevanza dell'argomento, l'articolo scaturito dal lavoro di ricerca è stato accettato a tempo di record ed è stato pubblicato nel numero di aprile della rivista internazionale Journal of Macrobiology, Virology and Infections. Ascoltiamo allora l'intervista che abbiamo realizzato con il professor Francesco Amenta. L'emergenza sanitaria più pregnante è quella da Covid-19, per la quale l'Italia è stata ed è molto provata e le marche lo sono tuttavia. Utilizzando un sistema di machine learning e basandoci sui dati ufficiali, quelli riscontrabili nel sito del Ministero della Salute, abbiamo voluto lavorare su un concetto, di vedere se le quattro settimane in cui c'è stato il lockdown, praticamente qual era l'andamento dell'epidemia. Noi abbiamo lavorato su una predizione di che cosa succedesse. Il nostro sistema ha dimostrato che il lockdown è stato estremamente utile rispetto al periodo precedente, il mese prima rispetto al lockdown, è stato estremamente utile per ridurre il numero dei casi contagiati. E noi abbiamo fatto una previsione secondo la quale noi avremo praticamente che a fine maggio, mantenendosi una situazione di molta attenzione nelle relazioni umane e nei cosiddetti contatti sociali, noi prevediamo di avere praticamente 182 mila pazienti contagiati di cui 81 mila e 635 guariti. Naturalmente noi aspettiamo il 2 di maggio perché i dati verranno rivisti sulla base dell'andamento per vedere l'affidabilità della nostra previsione. Previsione che in termini di utilità per il territorio ci mostra che effettivamente una grande attenzione al contenimento dei rapporti sociali rappresenta un qualche cosa di estremamente utile per poter ridurre la diffusione del contagio. Conoscere, avere una conoscenza esatta di quelle che sono le dinamiche e le soluzioni e le situazioni che si vengono a creare può essere molto utile allo scopo di identificare delle azioni sui comportamenti, in questo caso, che possano essere realmente funzionali a liberarci da questa iattura che ci sta perseguitando e che rappresenta il desiderio di noi tutti. In occasione dell'Earth Day, la giornata mondiale della Terra, la sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam ha organizzato il webinar Custodire il pianeta, l'acqua, la risorsa più grande. Dopo i saluti del Rettore Unicam Claudio Pettinari e del Sindaco di Camerino Sandro Sborgia, sono intervenuti i docenti Unicam Carlo Bisci, Chiara Invernizzi, Marco Materazzi e Emanuele Tondi, coordinati da Stefano Mazzoli. I relatori hanno analizzato il tema dell'acqua sotto diversi aspetti, da quello climatico a quello geotermico, dall'acqua nel sottosuolo all'idrogeologia in generale. L'obiettivo è stato quello di presentare un approccio diverso e più consapevole alla risorsa acqua. Le tematiche affrontate sono di estrema attualità e sono tra le competenze che acquisiranno gli iscritti al corso di laurea in Scienze Geologiche e Tecnologie per l'Ambiente, che dal prossimo anno accademico tornerà ad essere erogato in lingua italiana e presenterà diverse novità, con un focus particolare sulla sostenibilità ambientale, sull'utilizzo delle risorse, sui cambiamenti climatici di fondamentale importanza in materia di transizione energetica ed economia circolare. Hanno preso il via nei giorni scorsi le lezioni online del Master Unicam in materiali innovativi per un'economia sostenibile, finalizzato a creare figure professionali in grado di operare e di prendere decisioni informate ed ottimizzate su tutti gli aspetti della produzione e della gestione dei materiali, dall'approvvigionamento al suo smaltimento ed in particolare sul controllo della materia prima, sulla certificazione e qualità del prodotto, sul consumo energetico, sullo smaltimento e sulla salute del luogo di lavoro. Il Master, diretto dal professor Roberto Gunnella, è realizzato anche grazie ad importanti aziende del territorio. Da sempre al fianco di Unicam, inoltre, UbiBanca ha voluto sostenere la formazione di quattro giovani laureati erogando altrettante borse di studio del valore di 2.500 euro. Presente alla lezione inaugurale il dottor Paolo Galli, direttore territoriale Macerata Ovest di UbiBanca. Ascoltiamoli in questa intervista. Quest'anno siamo qui perché sosteniamo, oltre che questo Master in materiali innovativi per l'economia sostenibile, anche il Master in digital solution. Diciamo, ecco, due concetti, mi permetto di dire, il digitale e la sostenibilità che sono entrati oramai da qualche anno in maniera molto forte anche all'interno di un'attività bancaria che vive oggi, ma a maggior ragione negli ultimi due mesi, veramente vive di digitale, ma lo è anche molto da qualche anno anche il concetto di sostenibilità in senso ampio. Quindi ecco, devo dire che ancora una volta siamo veramente orgogliosi come banca, ma mi permetto di dire anche io personalmente di poter essere presenti e collaborare con un piccolo sostegno a queste iniziative che l'Università fa, che sono sempre di un valore veramente eccezionale. Grazie a tutti e buon lavoro. UbiBanca ha messo a disposizione anche altre quattro borse di studio per gli iscritti al Master Unicam in Digital Solutions Manager, promosso dall'Università di Camerino in collaborazione con la Fondazione Colocci di Iesi. Bene, questa era la nostra ultima notizia, per questo appuntamento è tutto. Vi ricordo che un nuovo appuntamento con Unicam News è per mercoledì prossimo alla stessa ora. Come di consueto vi ricordo che tutte le informazioni che desiderate sull'Università di Camerino le trovate nel sito www.unicam.it. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.